Ciao ragazzi, oggi 4 agosto e sono venuto a fare un giro, ultimamente ho girato parecchio ma senza trovare un granchè. Sono salito su intorno ai 1200, un bosco misto, quindi betulle, castagni, qualche faggio e porca miseria, finalmente io ci godo. A parte questo finferlo, che lo lasciamo qua, finferli ma cosa ho trovato, ma ragazzi guardate, godo, eccolo qua un bel missilino, che fatica, ma che fatica ragazzi, però questo li paga tutto. Nonostante la pioggia, adesso sta piovendo tra l'altro, quindi tutto secco, nonostante tutta la pioggia che ha fatto, però, finalmente. E' anche abbastanza sano, stranamente. E beh, il buchino ce l'hanno fatto, da parte a parte, però. Ecco qua, bello, 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 sono contento ragazzi, è una stagione strana, non dà tanto, e quindi quel poco che dà, lo prendiamo. Ciao ragazzi, un saluto a tutti, visto che siamo in vacanza, questi video li vedrete poi a fine vacanze, fine agosto. Va bene, un saluto a tutti, ciao ciao.